arriva in serata arriva in serata saremo lì a in aeroporto a diciamo filmare l'arrivo di origi che il primo vero acquisto diciamo così della campagna estiva del mia di quest'anno è vero che il mio l'anno scorso aveva preso anche jacine adli però di questa campagna acquisti origi e il primissimo arrivo ce ne saranno anche altri durante il corso dell'estate però è un acquisto importante perché comunque 27 anni arriva a parametro zero dal liverpool è stato salutato come un eroe dai tifosi del liverpool dai giocatori del liverpool e vedremo vedremo perché secondo me questi giocatori che arrivano da campionati come la premier league possono fare davvero molto bene in italia abbiamo visto girù abbiamo visto tomori lo stesso abraham del della roma insomma sono giocatori che portano mentalità esperienza internazionale lui ha vinto anche una champions league una premier campionato del mondo per club insomma non è l'ultimo arrivato arriva a parametro zero contratto di quattro anni tre milioni e mezzo l'ingaggio insomma oggi è l'origidei e lo aspettiamo nel nel tardo pomeriggio per lo sbarco in italia insomma ok bene bene seguiamo punto esclamativo vitiello che mai mai tu proprio anto vai la sì sì ovviamente a che ora vai la ma che ora vai la e sull'orario ci hanno detto di non divulgarlo quindi mi perdonerete se non lo dico diciamo solamente prima di cena dai facciamo dai dai cinque e mezza sei sette ragazzi li trovate lì siamo a posto cosa sta facendo lo sta facendo ultimi dettagli contratto di maldini è questo è è qui qui praticamente ci troviamo in una situazione in cui c'è praticamente la domanda che si fanno molti è ma questo rigi questo botman che però botman adesso ne parliamo ma norma e acerbi ma chi li sta trattando no sta trattando la dirigenza che sta sta la dirigenza dell'area sportiva quindi maldini e massara che sta comunque continuando a lavorare nonostante non sia ancora arrivato ufficialmente il rinnovo di contratto ma noi da quello che sappiamo non diciamo non ci sono più grossi ostacoli in qualche giorno fa c'è stato un momento in cui come dire ci sono state un po delle discussioni all'interno del club rosso nero tra alcune aree del club quindi area sportiva e area un po finanziaria lato è e su visioni diverse no su come investire su chi investire sulla filosofia degli investimenti un po quello che aveva detto paolo maldini nella sua intervista alla gazzetta dello sport però ci si abbiano avuto da ridire in particolare su qualcosa ma per esempio c'era una parte di milan che sosteneva che l'acquisto di botman fosse un acquisto fondamentale perché voi sapete che i campionati si vincono quando hai la difesa più forte però anton estamente la diare a rinforzare scusami andando a rinforzare quel reparto vai a creare un quartetto difensivo clamoroso botman tomori calulu lo stesso kier un altro lato del milan diceva ma se abbiamo la difesa già forte investiamo i soldi in altri reparti dove abbiamo invece delle mancanze come ad esempio la tre quarti il fatto che sia definitivamente saltata l'operazione botman mi porta a pensare che quella visione di investimento abbia prevalso sull'altra quindi il milan credo che vada a fare da qui a un mese insomma nel mese di luglio credo e spero acquisti importanti sulla tre quarti ed è praticamente dove il milan aveva realmente bisogno visto quello che è successo poi nella passata stagione con salame cares messias che non sono stati come dire impeccabili secondo te ti faccio una domanda scomoda ma tra le due fazioni quelli che volevano botman e quelli che non la volevano secondo te maldini dov'era ma io so che maldini era nella fazione in cui che poi anche brutto no parlare di che si fanno la guerra diciamo filosofia diversa maldini era tra quelli che spingeva per l'acquisto di botto d'altronde è un'operazione tra è un'operazione che il mio ne porta avanti ha portato avanti per 6 7 mesi e alla fine non si è conclusa c'è anche da dire che non si è conclusa perché e questo credo che sia l'elemento principale è arrivato il newcastle offerto di più al al giocatore al e all'ill il mio anche perché calulu è venuto fuori bene anche questo però c'è da dire che il mio hanno fatto tre rilanci per botman al rialzo e se poi c'è il newcastle che offre di più sia al giocatore che all'ill e il giocatore non si è più sentita di aspettare il milan e allora va bene così il milan andrà su altri obiettivi e quindi vedremo su chi andrà il milan in difesa sua cerbi sinceramente non ho grandissime conferme quindi secondo me il milan andrà su su un altro tipo di profilo in difesa però vai vai posso fare una domanda no approfitto del del direttore vitiello per chiedere ma a questo punto in milan passando da un profilo come botman ad uno chiaramente inferiore come potrebbe essere acerbi o un altro difensore farebbe una differenza di livello notevole quindi se si andava su botman era per fortificare molto la difesa scendendo di livello a quel punto qualcosa anche nei piani societari non andrebbe come previsto perché è chiaro che calulu a me e io amo calulu però la stagione è lunga per dentro anche romagnoli e sappiamo che il milan quest'altro è stato falcidiato dagli infortuni quindi nel caso venissero a mancare calulu o tomori o anche diciamo per un normale rotazione dei giocatori in quel caso credo che un profilo come acerbi non sarebbe di di primissimo piano quindi se si andate su botto ma magari bisognerà prendere qualcosa più o meno dello stesso è prossimo nel fatto è questo c'è anche questa domanda anto su teatre del bologna se l'avevi sentito io mai c'è interesse ma non credo che ci sia attualmente una vera e propria trattativa calda per il giocatore del bologna su quello che dice simone giusto però simone non c'è un budget infinito quindi tu devi fare delle scelte ritorniamo sempre lì se il mian avesse 200 milioni farebbe quattro acquisti da 50 milioni l'uno il problema è che devi comunque fare delle spese più ragionate diciamo così quindi è una questione di priorità in questo momento è la priorità qual è andare a il quarto difensore o prendere un trequartista visto che il mian in quella zona del campo ha comunque delle difficoltà chiaro che è una domanda legittima è perché io secondo me entrambe le filosofie sono corrette grazie spazio calcio non agli amici di spaccio calcio che ci hanno fatto un raid e li ringrazio l'avrei ringraziati dopo grazie mille momo mi sembra una strategia però molto intelligente è il minan praticamente dice alla fine quest'anno valorizzato i due difensori che avevo perché calulu e tomori sono i due centrali giusti c'hai chi è che ritorna dall'infortunio e decidono di prendere acerbi quindi anto si va verso lui no ecco qua sport media voi l'avete solo riportato dici che sono ore calde per acerbi e tu però hai detto che non hai chissà quali voci allora allora io da quello che ho capito su acerbi ci sarebbe anche un discorso col giocatore soprattutto intavolato dai procuratori perché è in uscita acerbi dalla lazio no si arriva soprattutto romagnoli l'ambiente nell'ultimo periodo non è stato tra l'altro generoso nei suoi confronti però facendo poi delle delle verifiche diciamo vicino il milan non ho tutte queste grandi conferme magari arriverà lo stesso però attualmente non mi sembra un'operazione caldissima acerbi anche perché da quello che risulta comunque c'è un ingaggio abbastanza importante da sostenere per chi è anto allora il nome lì dietro secondo te ma sicuramente si stanno valutando tanti giovani c'è salibà che viene valutato il difensore del bologna teatro oppure esatto nel caso di allora qui però sarebbe una scelta anche lì è ventunenne molto interessante insomma questi sono profili di difensori diciamo più adatti al mondo di giocare di più nel senso che stiamo parlando di difensori veloci che giocano d'anticipo eccetera eccetera acerbi è più sì stile romagnoli quindi pure io non vedo tutta sta cioè a sto punto mi rinnovo romagnoli e anche perché ora sto andando un attimo a controllare per avere più certi a 34 anni acerbi non è che sia proprio giovanissimo insomma no romagnoli è ancora più giovane quindi a sto punto al milan e converrebbe anche il rinnovo di romagnoli a 3 milioni casale facevano il nome casale casale è stato un profilo proposto al milan infatti secondo me magari ci stanno anche ragionando visto che ora si è si è ingarbugliata la situazione con quindi ando il grande acquisto doveva dove l'ho andata a fare sulla tre quarti cioè qual è il nome si secondo me sì sulla tre quarti e i nomi più gettonati in questi momenti in questo momento sono quello di asensio che da quello che risulta piace davvero tantissimi però a ryan sembra modrice internet asensio milan c'è quando ogni calcio mercato non è diverso perché l'ingaggio di asensio non era non è altissimo come quello di modric no no che ogni anno ritorna scusami sono espresso male allora però è in scadenza e ci sono stati comunque dei contatti con il suo procuratore giocatore che non sta rinnovando con real madrid se riescono a trovare la quadra a livello di ingaggio secondo me può essere ancora un obiettivo credo che piace a me ha senso personalmente personalmente piace secondo me potrebbe dare moltissima esperienza e poi un giocatore duttile perché riesce a fare varie posizioni dell'attacco a me piace molto come diceva il direttore e l'ingaggio è abbordabile nei parametri diciamo ci si potrebbe lavorare e soprattutto è una subro del real madrid no al credo che non conti giusto una puntualizzazione l'ingaggio attuale al real madrid mi hanno detto che non è elevatissimo però nel suo trasferimento in un'altra squadra chiederebbe comunque un ingaggio abbastanza alto quindi è lì la questione cioè se non erro se non erro siamo sui 55 barra 6 attualmente è che però diciamo ragazzi è ma però per la politica del milano non sono tanti antono voglio pagato sia sia te o no ma perché sto dicendo che non è non è facile e c'è comunque valutazione diversi profili perché comunque un ingaggio di 6 milioni per esempio che al minano costerebbe quasi 12 lordi all'anno sono dei parametri che al momento ecco il mio vorrebbe provare a non arrivarci anche per questo lo stesso di bala non risulta attualmente essere un'operazione calda perché se mi vai a chiedere sette sette e mezzo è ovvio che il mio non può accontentare quel tipo di richieste però è al momento ecco sono nomi come quello di ziek di di assenzio che fanno un po sognare il tifoso ma sono allo stesso tempo delle operazioni non semplici da giusta con te lo ve li vedono come trequartisti o come sterni da secondo me possono fare entrambi i ruoli possono fare sia il diciamo trequartista centrale che a destra ecco perché la duttilità di questi giocatori può essere utile non ci dimentichiamo del club brug lì per esempio la questione ingaggio non sarebbe un problema che un ragazzo di 21 anni non guadagna tanto e però ti chiedono 30 35 lì probabilmente hai più margine con l'ingaggio e meno margine con il cartellino vediamo vediamo e una cosa c'è visto questi nomi qua non hai fatto il nome di renato sanchez proprio no no però stiamo parlando di trequarti su sanchez tenderei più a parlare di centrocampista che poi può essere anche adattato alla trequarti va bene però io credo che se il mio lo prende lo va a mettere nella zona davanti la difesa no al canto a benasser o a tonali mi stupirebbe vedere un renato sanchez fisso sulla trequarti da quello che risulta la pista sia un po complicata con l'inserimento del paris a germain però il milan vorrebbe comunque che se ne fa il paris di questo quadra è infatti questo è un altro discorso ma anche dovrebbe essere un pupillo di galtier ma ho capito vieni al milan sei di campos sei super amato sei la la stella ma anche perché andone se c'è botman scrigna c'è già in difesa vuol dire no botman newcastle allora comunque una bella c'è non gioca win al dunley quindi figurati ce ne hanno un sacco pare ed es eccetera eccetera e mentre ma ti volevo chiedere anto nell'ottica di squadra di modulo secondo te può essere un'opzione quella che più oliva l'occhio non ci stanno non troviamo il trequartista giochiamo più come abbiamo fatto con che si nell'ultima parte che sarebbe un un centrocampista mascherato diciamo quella fine tu dici con san con sanchez ma allora sì però a quel punto mi devi andare a prendere il mediano perché non è che puoi fare che mi va a prendere solo un giocatore per tutti e tre ruoli perché poi sono tre ruoli che il mio deve rinforzare la mediana il diciamo numero 10 alternativa diaz e l'esterno destro non è che mi puoi prendere un giocatore per fargli fare tutti e tre ruoli se tu decidi che sanchez sia devo farlo devo farlo devo farlo ecco il mediano ecco qua ecco qua il milan quindi io non so perché si sono scambiati e origi eccole qua e mancano questi due mancano questi due raga è inutile prendersi in giro sì 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 sostanzialmente sì considera il sicuro ai vai simo no anche perché nel momento in cui sfumerebbe sanchez bisognerebbe andare a trovare un altro calciatore più o meno dello stesso livello di importanza e quindi dopo un lavoro di mesi e mesi svolto su sanchez non credo sia così facile trovare un'alternativa è quello che mi preoccupa mi sfugge il nome con lo brasiliano e da glas luiz bravissimo e della storm villa anche lui non è che vogliono poco e si parla anche lì di 25 milioni massa in realtà la cosa strana di sanchez è che avendo un anno di contratto tu lo puoi prendere con una cifra non elevata no però parliamo comunque di un giocatore di grande esperienza di qualità centrocampista comunque bravo quindi secondo me mia dovrebbe davvero fare di tutto per prendere questo giocatore chiudere un'operazione che sta portando avanti da diversi mesi da gennaio perché comunque gennaio il mina ha provato a chiudere sanchez e vediamo insomma perché fin io dopo l'esperienza botman anche ai tifosi raccomando di essere un po più equilibrati e prudenti finché non sia non si vede l'arrivo di un giocatore a milano non diamo per fatto le cose perché qua il calciomercato davvero può cambiare da un secondo all'altro quindi sanchez resta obiettivo primario per il milan ma insomma l'operazione va ancora chiusa ecco e finché non la chiudi c'è sempre il pericolo che possa arrivare qualcuno e romperti le scatole insomma e soffiarti il giocatore sulle au che lo stanno chiedendo in ciave dove non andare anche le au ma anche di maldini e massara ragazzi dopo c'è il momento con sarno gli facciamo tutte le domande delle altre squadre minori di calciomercato qualche chiarimento squadre minori sì tipo le romane la fiorentina quelle lì non lo sai quell'altra no 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 su maldini e massara ragazzi penso sia imminente d'altronde il contratto scade al 30 oggi il 27 ma dai mantra sì no ma questa qua è siccome proprio una pro forma dai sanno chi cazzo è che va a operare il mercato no 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 infatti la livello di comunica e lo pietro in questa foto a ponte bello pietro è finalmente aggiornato la foto dopo dieci anni ma l'altro sta vedendo il basket allora come sta guardando voi le au le au anto le au rinnova opa tutti stavano scrivendo va al siti va al siti ma guarda di richieste ufficiali sul tavolo del mina da parte del siti non sono ancora arrivate ricordiamo che le au ha una clausola recissoria da 150 milioni di euro quindi tutte le offerte al di sotto il mia le può accettare male può anche rifiutare non è obbligato a venderlo e da quello che sappiamo loro vogliono rinnovarlo vogliono rinnovarlo è ovvio che dopo un campionato del genere e quanta è la distanza le richieste economiche sono e le sono aumentate se il primo il mia contava di chiudere sui quattro e mezzo ora serve qualcosa in più penso che siamo già sui cinque e mezzo più bonus quindi bisogna trovare la quadra sinceramente su su raffale au però lui non sta creando problemi cioè non è che voler si è impuntato per andar via è un dialogo tra le parti secondo me ripartirà in maniera un po più forte dopo aver risolto tutta questa questione del rinnovo della dirigenza magari dei primi acquisti però le au resta una priorità di questo mina cioè tu lo devi assolutamente rinnovare magari anche per evitare future beffe come è successo con che si con con donna rum insomma sono giocatori questi che devi provare a trattenere a tutti i costi e ha fatto questa intervista dio mi ha regalato il talento e doveva esserne grato e continuare a lavorare duro per non sprecarlo il mio soprannome vabbè eccetera eccetera intervista cos'è l'amicizia un valore importantissimo che fai nei cazzo molti amici questo crea gruppo intanto intenti di valori ma è vitale praticamente no a reggio emilia sembrava di cui qui parla dei tifosi che hanno sostenuto sì no ma per dire che non ha detto chissà chissà niente ragazzi ragazzo abbiamo assistito alle interviste come quella di che si in cui giurava un amore poi abbiamo visto comandata fine quindi io sinceramente sulle parole qualsiasi essi siano starei sempre con molta molta calma poi il discorso speriamo di rinnovare ma nel caso non dovesse rinnovare e spero che questa volta la società intervenga in tempo e quindi prende la decisione o vendere o rinnovarlo o venderlo per evitare appunto come diceva se non rinnova a fare di nuovo se non rinnova quanto lo puoi vendere quest'anno sapendo che l'anno prossimo non è a milan da quello che ho capito per meno di 70 80 milioni non si siede nemmeno al tavolo delle trattative perché comunque il milan vede il lea un grande potenziale capito c'è un giocatore che negli anni può diventare top europeo quindi penso che se per meno di 70 80 milioni non si siedono nemmeno sarà quella la cifra più o meno da da su cui cominciare a trattare ecco 80 90 però al momento non mi risultano grandissime offerte sul tavolo per leao e soprattutto non mi risulta la volontà del mia di volerlo vendere quindi rimaniamo con l'obiettivo di rinnovare questo invece per l'ala destra che l'altro ruolo che avevamo parlato tra l'altro tanti dicevano di che sì che fine ha fatto se se ne va via grazie fede per l'ottavo ma che sì che si ha già fatto le visite col barcellona anche firmato un precontrato si tratta solamente di ufficializzarlo lì però a barcellona una situazione finanziaria abbastanza disastrosa magari si vuole aspettare l'arrivo del il passaggio al primo luglio per il nuovo bilancio sono questioni interne al barcellona ma non l'operazione non è non è a rischio quella di che si barcellona raga detto prima riguardatevi il vod ne ha parlato prima che sono dei nomi che stanno sondando che scadono molto l'ambiente ma hanno degli altri ragazzi è un bel giocatore ma quanto prende ma guarda allora c'è un po una discussione su questa cosa dell'ingaggio di ziek a me persone che stanno c'è comunque lavorando sulla trattativa hanno detto che ha un ingaggio molto alto quindi se il mia dovesse fare questa operazione dovrebbe essere aiutato dal celsi a livello di ingaggio perché sarebbe comunque un prestito è un po un'operazione alla luca che mia la vuole impostare cioè il celsi deve prestare il giocatore al mia magari un prestito oneroso di 6 7 milioni però contribuendo anche al pagamento dell'ingaggio perché lui se non sbaglio scade nel 25 ora non voglio andare errato quindi comunque a diversi anni di contratti ancora con con il celsi e la situazione quindi su ziek è un po più problematica per quanto riguarda l'ingaggio così ci è stato detto e noi così ma è vera sta cosa qua di di marzio che dice che ha detto no cioè lui non è che cioè lui ha detto l'opzione milan va bene la gradisco come opzione però poi c'è tutta è certo è certo economica da valutare quello sì cioè a lui farebbe piacere un'esperienza al milan perché comunque al celsi da quello che risulta ai colleghi anche inglesi non è che abbia tutto sto grande rapporto con tuchel quindi se lui può partire può andare al milan ha detto ok vediamo se si può fare questa operazione però poi bisogna vedere nel dettaglio aspetto economico l'aspetto contrattuale la formula con il celsi quindi vediamo lasciamo questa porta aperta ma vediamo cosa succede diciamo milan e inter le prime due squadre d'italia nell'ultimo anno anzi negli ultimi due anni sono una succursale del celsi giusto per farvi capire quanto valiamo quanto vale la serie a cioè gli scarti del celsi vengono ragazzi ma voi ma voi avete visto questi dati di dov'è che sono aspetta questi dati di calcio e finanza le prime in italia a livello di ripartenze dei diritti televisivi guadagnano la metà dell'ultima in classifica della premier league ma è una battaglia impari cioè di cosa 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 di cosa stiamo parlando lo shellfield united guadagna 105 milioni di euro per diritti televisivi inter e milan siamo sui 70 milioni cioè la metà come come puoi contrastare il manchester city liverpool lo united poi parliamo sempre delle stesse cose ma c'è proprio una questione finanziaria nettamente diversa rispetto alla premier league purtroppo per noi per il campionato italiano siamo giunti al termine ragazzi che dobbiamo andare sul motociclismo simon te che ti auguri di vedere lì a nella fascia destra del milan faccia destra e vedo che ha preso zia e che io sinceramente a me piace quindi concordo ha capito qualcuno di fattibile a qualcuno beh qualcuno di fattibile berardi ma sai guarda tra ore essere anche fatto non mi ricordo tanto a me berardi a me berardi pancio non piace a me berardi perché poi berardi più o meno lo pagheremmo le stesse cifre stava parlando la stessa cifra di destrappare assenzio io a questo punto a quelle cifre preferisco preferisco zico assenzio a me berardi non convince perlomeno perlomeno per marisa in un fattore europeo fattore quando europeo me berardi non convince poi certo è complicata complicata io spero 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 di guardare con la formazione con ziek come manfredi dai beh ma invece tra ore del sassuolo a me tra ore tra ore un giocatore che piace anche se spesso e volentieri l'ho visto partire sulla sinistra perlomeno non è un nome che si era anche quello lì accostato al milan è una delle tante piste che dicevi io eh sì 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 tra ore auto il suo procuratore un incontro anche con con maldini a ibiza tra l'altro è lo stesso agente che gestisce mirante pioli e messias quindi comunque conosce bene paolo maldini però come diceva simone è più un sinistro centrale che un centrale destro se proprio vogliamo c'è politano anche libero lì dal napoli lano berardi pure stato sondato però io mi auguro che il miena faccia uno sforzo per prendere un giocatore di caratura internazionale tipo ziek a senso perché secondo me se lo merita anche mister pioli che davvero ha fatto una stagione clamorosa l'anno scorso e portare un giocatore di caratura internazionale darebbe ancora più entusiasmo anche ai tifosi all'ambiente più forza alla squadra a livello di qualità quindi sinceramente me lo auguro quindi vediamo come vanno queste va bene va bene tanto ci teniamo aggiornati seguitevi tiello è più tardi che vi dà tutte le news sull'origine stasera forse stasera faccio anche una live su twitch sul mio canale vediamo se se riesco in base anche all'arrivo di origi grazie mille ante grazie mille simo seguite anche a c milan insidenza ciao ragazzi buon lavoro